Dopo aver concluso la missione in laguna per Dashan Redan che firma un contratto quadriennale con i biancoverti che si sono assicurate l'olandese ed il Venezia che per questa stagione contribuirà in gran parte all'ingaggio che si è riservato un 20% sulla futura rivendita, la triade per i netti condostrano mira a riempire l'ultima casella prima del fine settimana. Ecco perché ora tutte le attenzioni sono rivolte a Taranto dove c'è Patrick Ricci oggetto del desiderio per completare la linea arretrata, la trattativa per il centrale Scuola Toro va avanti da diverso tempo ma il caos generato si arriva all'Oionio non ha permesso ai Lupi di poter fare l'affondo decisivo cosa che avverrà con l'insediamento ufficiale di Fabrizio Lucchesi e con i biancoverdi pronti a versare una piccola cifra nelle casse rosso-blu. Nel frattempo subisce una gira accelerata anche il mercato in uscita, il centrocampista Francesco Maisto passa al gubbio di Roberto Taurino, il calciatore ex paganese Perugia è stato voluto fortemente dall'allegatore pugliese che lo ha guidato proprio nella sua esperienza in bianco-verde. Il classe 2003 è stato valutato nel ritiro di San Gregorio Magno dal tecnico Michele Pazienza prima di essere nuovamente ceduto con la formula del prestito. Nel frattempo si sta cercando la quadra con il Crotone per il passaggio del difensore Erasmo Moulet ai Pitagorici. Per il calciatore il club calabrese chiede a Lavellino di contribuire all'ingaggio.